Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento con il Bianco e Rosso Tibi Sport, ancora una puntata dedicata al ritiro del Bari, il ritiro di caccia, dove oggi si sono affacciati i primi volti nuovi, anzi sono oltre i volti nuovi del Bari, c'è il volto nuovo anche di Telebari, perché abbiamo fatto staffetta, caro Salvatore Guastella, il nostro ospite odierno, Buonasera, ciao Enzo. Siracusano come il tecnico Auteri, questa è una cosa abbastanza curiosa. Sì, siamo della stessa provincia, due cittadine diverse, però siamo tutte e due, ci accomuna la stessa provincia di nascita. È così, tra l'altro poi ci svelerai qualche retroscena, perché non solo sei originario della provincia di Siracusa, ma il Siracusa è stato un punto d'incontro fra te e Auteri, ora ci spieghi cosa è accaduto realmente. Dicevo dei volti nuovi, non solo quelli del Bari, perché nell'ambito di una staffetta preventivata, Cristian sta tornando a Bari e da questa sera a Cascia c'è la nostra Barbara Cirillo, che è in buonissima compagnia. Ciao Barbara. Buonasera Enzo, buonasera a tutti i nostri telespettatori, innanzitutto vorrei tranquillizzarvi sul fatto che Cristian Siciliani è arrivato a casa sano e salvo e viva e lotta insieme a noi, qui invece accanto a me c'è Marco Perrotta, buonasera Marco. Salve, buonasera a tutti. Io ho proposto di portare la chitarra, ma non ha voluto, evidentemente si dedicherà più in là, anche perché abbiamo parlato di te, di questo duetto così particolare Marco, tra te e il mister, un rapporto stretto in poco tempo si sta creando tra di voi. Ma dai sì, credo che sia comunque l'inizio giusto, perché ci sta facendo lavorare e poi invece quando stacchiamo comunque passa molto tempo con noi e sta cercando di aggregarsi al meglio con i più vecchi del gruppo, quindi sono molto felice di questo perché comunque c'è l'alchimia, si vede fin da subito e speriamo possa continuare a lungo. Senti, se dovessi utilizzare un aggettivo per descriverlo, per noi che lo stiamo conoscendo attraverso le vostre parole fondamentalmente, chi è davvero mister Auteri? Mi verrebbe da dire una persona esperta, perché in tutto ciò che dice c'è una morale, non è mai banale in quello che spiega, in quello che fa, quindi è una persona molto preparata sotto l'aspetto lavorativo e nell'aspetto umano comunque è una persona con molti valori. Enzo, non so se avete domande da studio. Si sarà il gelosito Schiavone, visto che prima la coppia era per rotta Schiavone, adesso è per rotta Auteri, suona per rotta canta Auteri, avevi Schiavone come partner, che fine ha fatto Schiavone? No, lui c'è sempre, mi raggiunge in camera ogni sera in ritiro, cantiamo un po' insieme anche con Gigi Frattali, si sta creando un bel gruppo, un modo per rilassarci perché comunque stacchiamo la testa, ci rilassiamo un po', prima di riposare comunque serve così, poi ci prepariamo già per il giorno dopo. Sarà contento chi vuole riposare presto? Sì, infatti ho Ciofani in camera che si lamenta sempre, però dai, dovrà sopportarmi ancora un po'. Salvatore, al tuo collega per rotta, visto che insomma il ruolo è quello, difensore, terzino, insomma un po' roba tua, che cosa gli chiederesti? Che cosa gli chiederei? Io l'unica cosa che mi sento di fare a lui, ma a tutti quelli che in questo momento sono del ritiro è di non avere intoppi in questo periodo, quindi faccia gli scongiuri se non è inquadrato nessuno, perché è fondamentale portare a termine un ritiro senza accusare nessun problema, è la cosa migliore che posso augurare a lui, ma a tutti i ragazzi che sono su in questo momento, perché perdere qualche giorno per qualche problemuccio è sempre antipatico, finire senza intoppi in ritiro è un gran bel primo passo, questo è il mio augurio, quello che gli faccio. E poi lui stesso l'ha detto, creare subito la simbiosi tra i nuovi, i vecchi e soprattutto tra lo staff e l'allenatore, fidarsi di lui, del nuovo tecnico ciecamente e fare le cose che gli chiede, perché questo è l'unico modo per accelerare e arrivare prima possibile a raggiungere quello che il mister c'è in testa, il suo schema, il suo gioco. I difensori dovranno abituarsi, come si vuol dire in questi casi, a giocare alti, Auteri nel suo passato ha spesso esibito delle difese molto alte, l'altezza del centrocampo, come le immagini state lavorando in questo senso, coefficiente di difficoltà per un difensore qual è? Ma no, sappiamo che comunque una difesa 3 cambia dall'anno scorso, però ci stiamo lavorando, sono molto contento perché il mister comunque ci sta facendo vedere molti video di come ci muoviamo, di quello che prepariamo, comunque ci dà delle lezioni tattiche molto importanti, quindi sappiamo che c'è da lavorare molto, però ci stiamo preparando bene, anche perché comunque l'abbiamo già fatto l'anno scorso e sappiamo che possiamo far bene con questo modulo, quindi stiamo seguendo la lettra con le cicche del mister e speriamo di migliorare giorno per giorno perché il campionato si avvicina. Ecco, ci arriva la notizia di allenamenti anche piuttosto duri, una preparazione molto intensa. Beh, tu sei un giocatore che ha già una certa esperienza, cosa trovi di diverso rispetto all'esperienza del passato in questo ritiro? Sinceramente nella mia esperienza non ho mai trovato un ritiro dove non si è fatto fatica, quindi comunque stiamo lavorando, sappiamo che c'è da correre, c'è da lavorare, sappiamo che quelle sono le direttive del mister, quindi siamo entrati subito nella mentalità, diciamo che ormai passata già quasi una settimana ci stiamo già ritrovando i lavori che fa, comunque ci fa, al di là della corsa ci fa usare molto la palla, quindi stiamo correndo anche molto con la palla e diciamo che lo spirito di sacrificio non ci manca, siamo tutti concentrati, tutti comunque pronti sull'obiettivo che c'è da fare, sappiamo che dobbiamo ascoltarlo e fare poche chiacchiere. Barbara, immagino che stiano arrivando anche le domande dei tifosi del Bari per Marco Perrotta, se vuoi poi cominciare con le domande del pubblico da casa. A proposito, fino all'altro giorno sembrava non ci fosse una Coppa Italia per il Bari, oggi abbiamo avuto certezza che invece non solo c'è la Coppa Italia, ma il Bari dopo due anni torna nella Coppa Italia dei grandi, cioè la Coppa Italia quella ufficiale, diciamo così, non la Coppa Italia di categoria di Serie C e che domani ci sarà il sorteggio perché il Bari giocare il primo turno per eliminare contro una squadra che andremo a conoscere. Barbara, a te la parola. Sì, Enzo scusami se ti richiedo di ripetere la domanda perché nel frattempo stavo cercando di leggere anche qualche messaggio perché di messaggi ne stanno arrivando davvero tanto, soprattutto per Marco Perrotta, soprattutto per quel che riguarda la preparazione estiva. lo chiedo subito a Perrotta perché c'è Nicola che dice che la preparazione estiva e quindi il ritiro serve per costruire l'amalgama del gruppo, chiede anche sugli eventuali arrivi come farà recuperare il tempo perso, ma questa è una storia che poi si ripete di anno in anno. Però il gruppo è ben formato e segue soprattutto Auteri. Auteri lo conosciamo come un allenatore che riesce ad entrare nella testa dei giocatori. So che è da poco tempo che vi conoscete, ma vi chiedo a livello proprio tecnico in campo quanto è entrato nella vostra testa? Io credo parecchio, diciamo che personalmente mi dà molti consigli, comunque quando c'è da richiamarmi mi richiama, quindi comunque è un allenatore che sa ciò che vuole, lo vuole fatto bene, quindi comunque ad ogni persona se c'è da richiamarlo o se c'è da dirgli bravo lo fa, questo è una cosa che io particolarmente apprezzo molto perché comunque nel bene o nel male ti dice le cose in faccia come stanno. Però sappiamo che comunque c'è ancora molto da lavorare, siamo solo all'inizio e abbiamo poco tempo per lavorare, quindi comunque dobbiamo accelerare i tempi e arrivare pronti al campionato che veramente mancano davvero poco. Enzo? Sì, ricordiamo che il campionato comincia il 27 settembre, ma ripetiamo ancora una volta, oggi abbiamo avuto la conferma che domani il Bari sarà sorteggiato nel tabellone di Coppa Italia, quindi avremo un prologo al campionato, mi sembra di capire che Gauteri non abbia messo in preventivo delle amichevoli perché al di là della situazione attuale legata anche all'emergenza sanitaria, la sua carriera dimostra che non impazzisca per le amichevoli un po' scapole ammogliati che si fanno in montagna, vuole test probanti, test importanti e indubbiamente la Coppa Italia il 23 settembre potrebbe essere un prologo molto interessante. Senz'altro, fare quegli amichevoli a volte serve per far staccare il gruppo dall'intenso lavoro, ma un amichevole serio e importante forse si fa meglio tra di loro, è più probante di quelle amichevole che dicevamo prima. Quello che mi sento di dire ancora, e Perrot mi sta dando la conferma, è che la caratteristica di Gauteri è la lealtà, essere leale significa dire le cose come stanno, non nasconderle, sia esse positive sia esse correttive, non dico negative, quando c'è da correggere, quindi la lealtà di un allenatore secondo me è importante e fondamentale che debba essere applicata sempre, quando un giocatore in primis ma un gruppo si rende conto che ha di fronte un allenatore leale, accetta le sue decisioni con più serenità. Insomma, quando c'è da lavorare bisogna lavorare, quando c'è da rilassarsi e scherzare c'è da rilassarsi e scherzare e anche da cantare. Chiedo alla regia se possiamo recuperare il video, l'abbiamo già mostrato nei giorni scorsi, del duetto per rotta Auteri e poi vorrei sapere da Marco qualche retroscena rispetto a questo video, come nasce questa simbiosi e adesso vediamo un po' insieme il video. Tu mi devi dare un po' insieme a lei Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere E allora Marco, come nasce questo duetto? Te era mai capitato di cantare e di suonare per un allenatore? No, mai. Ma no, è successo che dopo cena comunque mi stavo rilassando con gli altri miei compagni di squadra e mi hanno chiesto se andavo a prendere la chitarra per suonare un po' di canzoni e il mister si è avvicinato e mi ha detto dai suoniamo qualcosa insieme così scherzando e è venuta fuori diciamo una bella canzone Una bella canzone di Battisti insomma Siamo rilassati, sì Una chitarra e voce Battisti è È il massimo È quello che insomma in qualsiasi momento si può cantare Allora La convergenza su Battisti è anche di generazioni completamente diverse Beh, parliamo di un immortale insomma Battisti Di un evergreen Esatto, piace a tutti Poi l'altro giorno ascoltavo una canzone in macchina di Battisti e ho fatto un po' il paragone, devo dire la verità un po' ingeneroso con le canzoni che vanno oggi per la maggiore canzoni che durano un'estate, che durano tre giorni e poi spariscono Prendila così, te la ricordi di Battisti? Una canzone memorabile cioè voglio dire, mi sono rimasto bloccato perché non la sentivo da tanto tempo e devo dire che sono canzoni che restano nei tempi, restano negli anni resteranno sempre, faranno parte della nostra vita Sempre, ma anche dei giovani, io ho l'esperienza di mio figlio che ha trent'anni Fino a qualche anno fa gli proponevi Battisti o qualche altro nostro autore, cantautore Ti ridevo in faccia, adesso c'è le chiavette piene zeppe delle mie canzoni Ah sì? Si è convertito diciamo Marco tu che gusti musicali hai a livello di musica italiana? Quali sono i tuoi cantanti o cantatori preferiti? Diciamo che vado a momenti, ogni tanto cambio No, mi piacciono questi cantatori diciamo un po' più, tra virgolette, non della mia età però ultimamente mi piaceva Scorossi e ultimo diciamo che loro li ascolto molto, italiani E questo è Pane per i denti di Barbara che ha condotto una trasmissione però ha citato comunque due che hanno dei testi con sostanza ma qui non parliamo soltanto di uno che canta, parliamo di uno che suona una chitarra devo dire che nel vituperato mondo del calcio noi abbiamo comunque due biancorossi a meno che non ci siano sorprese ed altri che suonano uno strumento abbiamo visto Antenucci al pianoforte per rotta alla chitarra ma questo è un fenomeno abbastanza diffuso sul web impazzano i video ad esempio di Falzerano che è un calciatore, lo ricordo, a Venezia, forse lo scorso anno era a Perugia che in un aeroporto durante un trasferimento da una città all'altra ha incantato i suoi compagni di squadra suonando dei bei brani a livello musicale no Marco, insomma scopriamo dei talenti che magari prima avevamo ignorato ma no dai, comunque penso che ognuno abbia la sua passione io ho imparato da 3-4 anni a suonare la chitarra e mi piace molto è una cosa che mi rilassa quindi lo porto avanti come una passione personale mi piace molto, so che molti calciatori lo fanno a Pescara ne eravamo 4-5 che suonavamo la chitarra quindi tra virgolette ci davamo anche lezioni a vicenda avete lasciato un particolare che c'è Gigi Frattale che è un cantante io suono e lui canta e poi c'è Mirko che suona il piano mettiamo su una piccola banda manca la batteria e poi siamo a posto stavo dicendo appunto mettiamo un annuncio insomma che arriva un batterista e uno al piano ah no il piano c'è già chissà se fra i due nuovi arrivati non si nasconde un altro talento musicale Barbara l'abbiamo visti questi ragazzi che si sono aggregati in realtà non è possibile ancora che abbiano dei contatti con la squadra perché comunque devono sottoporsi al protocollo sanitario tamponi e compagnia bella prima di avere in contatto con chi li ha già fatti giusto Barbara ci sono i nuovi? esatto dici bene Enzo sono arrivati nel tardo pomeriggio però non si sono uniti al gruppo sono anche in un albergo diverso da quello in cui stanno soggiornando i giocatori del Bari proprio perché devono aspettare l'esito dei tamponi che sono stati effettuati proprio questo pomeriggio quindi non appena si avrà il risultato si potranno ovviamente in caso di tampone negativo unire al gruppo e ovviamente unirsi agli allenamenti davvero molto pressanti di mister Auteri che continueranno nei prossimi giorni però sono arrivati oggi ma non hanno potuto conoscere i nuovi compagni per insomma le norme anti covid che non permettono loro di avvicinarsi è giusto così intanto a testimoniare l'allegria nel ritiro del Bari la compattezza, la voglia di scherzare ma anche di essere amici il Bari ci ha girato un video di uno scherzo a Di Cesare durante il pranzo vediamo ma abbiamo visto come è finita insomma ma cos'era uno scherzo, cos'era un compleanno o non compleanno di Di Cesare Barbara tu l'hai visto questo video? Di cosa si tratta esattamente? sì sì, l'ho visto almeno dieci volte, mi sono fatta grasse risate era un buon non compleanno di Di Cesare sostanzialmente mancava soltanto il cappellaio matto e lì c'è nel paese delle meraviglie però si possono trovare facilmente vero per rotta? no dai, è successo che l'anno scorso quando facciamo le scene di squadra fuori nei ristoranti facciamo arrivare ogni sera che andavamo sempre una torta con le candeline a Valerio però quest'anno niente torta insomma quest'anno niente torta solo aguri, un regalo almeno gli l'hai fatto abbiamo iniziato solo con gli aguri poi pian piano arriverà anche la torta anche perché non si può far festeggiare troppe volte il compleanno a Di Cesare ha già abbastanza anni ce l'ha già di su arriva facilmente a 40 durante il ritiro quindi converrebbe insomma far festeggiare il compleanno ai più giovani Barbara, hai altre domande da parte dei tifosi? allora, le domande sono sempre le stesse sulla preparazione e soprattutto sul nuovo modulo che il tecnico poi andrà a schierare in campo in tanti ti chiedono quanto la difesa a tre sia cucita addosso a te addosso a Perrotta io comunque con una difesa a tre mi sono trovato sempre bene credo che sia comunque una difesa che a differenza delle altre difese a tre comunque ci sia meno copertura dei quarti perché il mister vuole che i quarti spingano molto però comunque mi trovo molto a mio agio mi trovo molto bene perché comunque abbiamo delle coperture poi comunque ho dei miei compagni che già conosco a memoria perché abbiamo giocato molte volte insieme l'anno scorso e quindi mi trovo a mio agio mi trovo molto bene speriamo di far bene e di prendere meno gol dell'anno scorso forse abbiamo parlato un po' troppo del tuo aspetto musicale ti hanno preso un po' per un jukebox perché Enzo chiede Marco facci l'inno del Bari con la chitarra quindi a breve sui canali social del Bari l'inno del Bari lo stai studiando? no 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 a fine anno lo faremo insieme va bene promesso Salvatore parlava dei tre dietro i quarti vogliamo spiegare tecnicamente cosa vuol dire? non lo sto vedendo che tipo di elementi però immagino che in alcuni momenti avranno l'appoggio di uno dei quattro perché difendere a tre si può fare certamente ma in alcuni momenti ci vuole la copertura di uno dei due esterni dipende da dove è la palla se immagino come quello che ho fatto io ai miei tempi con Catuzzi giocavamo anche noi a tre però c'era il quarto di diagonale lungo il modulo Catuzzi era tre? tre e quattro tre questo tre e quattro tre l'abbiamo fatto con Catuzzi e i due esterni facevano sui giù erano i terzini praticamente? non solo i terzini ma erano anche i due di centrocampo laterali che dovevano veramente spendere bagnato? bagnato nel caso tuo nel caso mio non ci avevo bagnato ci avevo da una parte Cuccovillo o da un'altra parte ci avevo dipende chi giocava però noi tre che stavamo dietro diciamo nella zona dove attaccavamo la palla il quarto di centrocampo faceva eventualmente la diagonale lunga per eventualmente chiudere perché si stringe dal lato della palla verso la palla il mio tre e quattro tre credo che quello di Auteri sarà un po' simile però non avendolo mai visto in pratica lo posso immaginare non rimarranno sempre in tre dietro in certi momenti hanno sempre l'appoggio è una bella suggestione tre quattro tre forse il Bari non giocava il tre quattro tre davvero dai tempi di Catuzzi puro per me sì oddio l'ha fatto anche con l'ha fatto anche in alcuni momenti in qualche rara partita l'ha fatto Conte forse qualche volta avventura mi ricordo qualcosa è un 4-2-4 sì però ogni tanto l'hanno fatto hanno mosso uno nella linea di centrocampo perché abbiamo difesa tre in qualche circostanza Barbara ti ripasso la linea ovviamente ci congederemo tra poco fallo tu con Marco Perrotta ringraziandolo per la disponibilità sì dobbiamo liberarlo anche perché si è fatta una certa e domani sveglia presto per ricominciare con gli allenamenti alle 9.30 e poi ancora seduta nel pomeriggio ma avremo modo di parlarne insieme intanto ringrazio Marco Perrotta per essere stato con noi buona serata grazie a voi buona serata buona serata a voi ciao Marco andiamo in pausa pubblicitaria e poi torniamo insieme con il Bianco e Rosso TV Sport speciale ritiro Bianco Rosso liceo scientifico sportivo cittadella della formazione presso l'ex di Cagno a Brescia istituto scolastico per l'istruzione degli atleti di tutte le discipline con insegnamenti specifici e utili per il mondo del lavoro struttura con ampi campi sportivi e spazi verdi www.liceosportivobari.it suzuki natura hybrid carattere 4x4 tecnologia hybrid tua da 12.300 euro con incentivi suzuki car service bari nel cuore di bari www.liceosportivobari.it Scegli T-Rock da 199 euro al mese, TAN 599 e TAEG 721. Hai manutenzione e assicurazione a tutela della salute incluse e le prime tre rate le paghiamo noi. Vieni a scoprirla da Volkswagen Zentrum Bari. Insieme con il Biancherosso TV Sport vuol dirti che è stata una grande suggestione paragonare il modulo di Auteri a quello di Enrico Catuzzi. Sui numeri, con i numeri voglio dire, mi sembra quello. Poi, ti ripeto, adesso dobbiamo vederlo all'opera. Il primo incontro di un modulo di questo tipo, quando funziona e che cosa succede? Quando funziona agli avversari gli viene il mal di testa, perché sembra che la squadra, il Bari in questo caso, sono 14-13. Che poi, se invece non dovesse funzionare, ecco perché probabilmente Auteri è molto esigente, lasci dietro praterie all'avversario. Quindi tra la linea di difesa e il portiere ci sono 30, 40, 50 metri. Quindi è importante che in fase di non possesso, quando il Bari non è in possesso di palla, che perde palla in azione d'attacco, siano rapidissimi a chiudere tutte le linee di passaggio e ad attaccare la palla. Perché se danno all'avversario il tempo di alzare la testa e giocare, tra virgolette, comodo, ripeto, rischi 40 metri di vuoto alle tue spalle. C'è la praterina, insomma. Se non la chiudi, c'è la praterina. Diventa difficile. Barbara, stai leggendo il telefonino. Immagino che ci siano notizie di mercato allora. Che cosa sta succedendo? Allora Enzo, in realtà notizie ci saranno nei prossimi giorni. Notizie certe ovviamente, poi tutte le piste sono aperte, ma un dato è certo. Il Bari non vuole svendere i propri giocatori consapevole del potere che ha in mano, e il potere anche economico dei suoi giocatori. E quindi bisognerà gestire le trattative, sia in uscita che in entrata, nel migliore dei modi. Si era parlato nelle ultime ore di un interessamento da parte dell'Ecco per Folurumcio e Neia. Però una trattativa da vedere proprio nell'ottica di non svendere i propri giocatori. E poi blinda ancora una volta la posizione di Gigi Frattali. Quindi non ci saranno arrivi in porta, ma ci saranno arrivi sicuramente in tutti gli altri reparti. Ancora aperto lo scambio tra Berra e Chiaretti, che arriverebbe dal Pordenone, un brasiliano classe 87. E poi ci sono ancora le richieste da parte di mister Auteri per i due del Catanzaro. E ancora aperta invece la posizione di Candellone in attacco. Però, ripeto, sono tutte trattative aperte. Nulla di certo al momento. Al momento il Bari ha chiuso con i due giocatori che sono arrivati questo pomeriggio, di cui abbiamo parlato prima. Andreoni, un contratto triennale per lui, un laterale destro svincolato dall'Ascoli. E poi Minelli, un difensore centrale classe 99, arrivato a Bari in prestito con diritto di riscatto dalla Juve Under 23. Quindi bisognerà stare attenti nei prossimi giorni per quelle che saranno le uscite, quelle che saranno poi ovviamente le entrate nel Bari. Anche perché ricordiamo che il Bari ha un gruppo di 25 e dovrà sicuramente sfoltirlo per via delle norme federali. Grazie Barbara e mi dai l'assist anche per introdurre il nostro ospite via Skype, che è un procuratore di calcio, ormai un esperto di mercato. Ma soprattutto è un giocatore che ci è rimasto nel cuore. Alberto Bergossi, ciao Alberto, buona serata. Buonasera a tutti. Ti saluta Salvatore Guastella. Ciao Alberto. Ciao Salvatore, che piacere vederti. Ah, che mio. Quanto avete giocato insieme tu e Alberto Bergossi? Abbiamo giochicchiato assieme, abbiamo condiviso un paio di anni qui a Bari, è stato un bel periodo. Che giocatore era Bergossi? In allenamento ti capitava mai di affrontarlo? Probabilmente eravate uno di fronte all'altro. Alberto era uno che amava giocare e divertirsi con il pallone. Quindi era un piacere vederlo giocare e in allenamento ogni tanto faceva dei numeri. E tu accettavi visto che era solo un allenamento oppure qualche volta ti scappava? Vabbè sì, ogni tanto scappava, però ogni tanto lo prendevo. Ti ritrovi in questa descrizione Alberto? Salvatore sicuramente era un difensore arcigno, ogni tanto qualche scarpata mi arrivava. La prendevo volentieri perché mi stava particolarmente simpatico. C'era magari quando ti danno la scarpata qualcuno che ti sta antipatico, la prendi anche un po' malvolentieri. Salvatore è sempre stato un giocatore corretto e un amico anche. Infatti siamo rimasti in ottimi rapporti pur essendo passati tanti anni dalla nostra permanenza a Bari. Qual è il limite a cui non si deve andare in allenamento? Perché insomma poi in allenamento un difensore non può farsi ridere dall'attaccante o non può far brutta figura davanti al proprio allenatore che ti dice alla fine guarda che Bergossi non l'hai mai visto insomma. Il limite innanzitutto è avere rispetto e da stupidi creare un problema, un'infortunio a un compagno di squadra. A volte accade. Ma che accade secondo me quando accade o accadeva erano persone poco intelligenti perché fai male a un tuo compagno di squadra che ti è utile, che ti fa vincere le partite è veramente da stupidi. Se accade per un incidente assolutamente involontario può succedere. Ma parliamoci chiaramente, noi che abbiamo giocato a calcio lo sappiamo, se in quel momento stai entrando e rischi di far male a un tuo compagno lo sai. Quindi eviti quell'entrata. Tanto è in allenamento, non è che rischiare una cosa del genere. Io non l'ho mai concepita, non l'ho mai fatta. Visto che mi piace molto questo argomento che abbiamo preso un po' anche in maniera molto improvvisata, l'allenamento che poi è tipico anche della fase di preparazione al campionato. Chiedo di entrambi, insomma Alberto è un precedente da censurare delle partitelle in famiglia di un allenamento di tanti anni fa? Diciamo che l'allenamento giustamente deve essere sempre tenuto ad un ritmo importante. Magari nel calcio di oggi che c'è più agonismo secondo me che tecnica, vedo che gli allenamenti sono più intensi di quando ci allenavamo noi. Perché poi le rose sono anche un po' più ampie, di conseguenza c'è un po' più di concorrenza. Gli episodi poi capitano durante gli allenamenti, sono capitati tante volte che magari uno gli si chiude la vena, come si suol dire, e magari fa un'entrata, un tunnel o un palonetto, sono cose che sono capitate, però almeno per quanto mi riguarda finiva alla fine dell'allenamento una stretta di mano, una doccia e finiva tutto. Però adesso vedo che il livello di intensità, soprattutto degli allenamenti, sono effettivamente aumentati. Perché, ripeto, un po' la rose è un po' più ampia e perciò ognuno cerca di mettersi in luce davanti all'allenatore, allo staff tecnico. E un po' perché magari si predilise adesso un po' più l'agonismo alla tecnica. Vi faccio un'ultima domanda e poi chiudiamo questa apparenza dedicata all'allenamento. Perché c'è una categoria di giocatori, alla quale io nel mio piccolo ho fatto parte, che erano dei fenomeni in allenamento, ma poi in campo erano tutta un'altra storia. Mi fai degli esempi sul piano personale? Mi hai trovato un calciatore che in allenamento ti sembrava un ire di Dio e poi in campo si perdeva? Beh, adesso non vorrei fare dei top, però ecco, forse non tanto noti. Però noi abbiamo avuto noi uno a Bari, un Roselli, ma non il Roselli, Giorgio, che era un giocatore. Bravo, e lì a Roselli il giovedì ci faceva ammattire, ci faceva ammattire. Poi la domenica, non lo so perché, si perdeva. Ma se tu lo vedevi giocare il giovedì, dicevi, questo è un fenomeno. La domenica o sentiva troppo la partita, non lo so, spariva. Alberto, stessa domanda anche a te. Io sinceramente non ricordo in particolare. A Bari non ricordo, ad Avellino mi ricordo che c'era un giocatore che era uno straniero, un centravanti si chiamava Soren Skov, che durante la settimana faceva vedere delle ottime cose. La domenica non riusciva a calarsi bene nella parte. Toglici una curiosità, ma dove stai? Ho visto passare un camion alle due spalle. Guarda, per il Bari, e per te in particolare, mi sono fermato in un'area di servizio. Stavo tornando dalla Toscana per lavoro e avevo preso l'impegno con te, perciò mi sono fermato. Sono in un'area di servizio tra Firenze e Bologna. Ti ho sempre voluto bene, adesso ti voglio bene ancora di più per quello che hai fatto. Peraltro, Alberto, il mercato te l'hanno portato a casa praticamente, perché quest'anno il mercato è a Rimini. Tu stai da quelle parti. Sì, 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 io abito a Forlì, poi addirittura in questi giorni sono così, ho la fortuna di stare a Cesenatico, perciò ancora più vicino. Sono andato l'altro giorno all'inaugurazione, c'era un po' di gente al grande hotel, il famoso grande hotel di Fellini, è la Dolce Vita e per la prima volta è qui vicino a me. Bello, bello, bello. Insomma, ci andrò un po' più spesso. Ho visto le immagini, c'è ancora la suite di Fellini, insomma, la stanza più bella, insomma. Alberto, per mia curiosità, c'è qualche assistito, tu hai assistito nel Bari in questo momento? No, in questo momento no. Ok. Purtroppo no, purtroppo. Purtroppo no. T'hanno chiesto qualche calciatore, dai, rimanga fra noi. Beh, qualche informazione, sì, su qualche calciatore me l'hanno chiesta, ho fatto due chiacchiere con Giancarlo Romairone proprio l'altro giorno e così mi faceva notare chiaramente magari che prima di fare delle entrate hanno la necessità di fare qualche uscita anche perché c'è una lista di 22, quest'anno le cose sono un po' cambiate perciò c'è difficoltà un po' in tutte le società, però insomma mi auguro e confido di rimettere un giocatore a Bari anche perché poi io proprio sono anche, come si sa, simpatizzante del tifoso del Bari perciò avere un giocatore magari o due nella rosa del Bari sarebbe una bella soddisfazione infatti. Senti, ma Romairone che tipo è? Visto che insomma voi procuratori avete che fare in maniera diretta con gli elettori sportivi. Ma Romairone è un ragazzo per bene, è un professionista, ha già avuto diverse esperienze positive è un buon conoscitore di calcio secondo me e ha anche un modo di fare e un modo di approcciare con le altre persone giusto è chiaro che Bari è una piazza difficile, lo sa anche lui, è la prima cosa che mi ha detto e io gli ho fatto un in bocca al lupo e credo che riesca, che potrà insomma allestire una squadra competitiva perché quest'anno insomma il Bari deve vincere, ecco, su questo non credo ci siano molte discussioni. Senti, hai avuto due calciatori nel passato che hanno lavorato e giocato con Auteri? Sì, ho avuto un paio di giocatori, l'ultimo era Pezzi, un giocatore che ha benevento un esterno basso nel 3-4-3 lo ricordo, ecco, un giocatore che è stato due anni con Auteri, ha vinto due campionati perciò sicuramente ha un ricordo molto buono perché Auteri a benevento ha fatto un ottimo lavoro. E' così. Ti stupisce il fatto che il Bari cominci il mercato da Minelli, Andreoni e probabilmente nei prossimi giorni arriva Candellone? Cioè noi a Bari siamo abituati anche in categorie più basse a nomi, persino in Serie D sono arrivati giocatori di nome a Bari, no? Invece sembra che in qualche modo si sia cambiata rotta. Credi che sia un fatto momentaneo nel senso che il Bari magari si riservi i supercolpi prossimamente oppure credi che con l'arrivo di Auteri cambi un po' anche il registro dal punto di vista del mercato? Credo che con l'arrivo di Auteri che conosce molto bene la categoria e l'ha già vinta credo che si vada alla ricerca di giocatori che abbiano fame, che abbiano la voglia e la determinazione di uno spirito di sacrificio un po' particolare perché è un allenatore che pretende molto da se stesso e perciò pretende molto anche dagli altri, ha un modo di giocare direi abbastanza dispendioso perciò comporta dei sacrifici, è un modo, ripeto, io lo conosco anche abbastanza bene perché sono andato a vedere diverse partite quando era benerento perciò ci sono dei giocatori che, io credo che lui voglia dei giocatori che siano destinati al sacrificio e chiaramente poi anche la tecnica è importante perché poi lui, tra parentesi, io me lo ricordo anche da giocatore era un giocatore che aveva delle invenzioni, delle giocate, perciò bisogna essere abbastanza completi per soddisfare questo tecnico e credo che adesso questi primi acquisti abbiano dato un'impronta così come hai detto tu giustamente di giocatori che vengono per correre, per sacrificarsi e per cercare di portare a casa il risultato che, ripeto, quest'anno non può non essere quello della vittoria Un'ultima domanda per Alberto, lo lasciamo andare a casa, visto che stai in autostrada Lo saluto calorosamente, Alberto un abbraccio a te e a tutte le tue donne non è una cosa per la sua famiglia, perché io lo sa che Alberto mi permette di dire questo e sa cosa intendo Alberto grazie davvero per la tua disponibilità, un grandissimo abbraccio da tutti noi e dai banesi Grazie mille, un saluto a Salvatore in particolare che ti ricordo sempre con tanto affetto un saluto alla tua famiglia e un saluto a tutti i tifosi del Bari che sono molto legato ai tifosi e alla città e spero che quest'anno stiamo zitti e spero anche magari di riuscire a portare un giocatore E così viene allo stadio più spesso infatti, grazie ad Alberto Bergossi, un grande abbraccio Alberto Grazie a voi, ciao O ritorno a casa Allora, forse dobbiamo andare ancora in pausa pubblicitaria Sì, pausa pubblicitaria, poi l'ultimo spazio in collegamento con Cascia e con la nostra Barbara Cerino Scegliti rock da 199 euro al mese TAN 599 TAG 721 Hai manutenzione e assicurazione a tutela della salute incluse e le prime tre rate le paghiamo noi Vieni a scoprirla da Volkswagen Zentrum Bari Liceo Scientifico Sportivo Cittadella della Formazione Suzuki Car Service Bari, nel cuore di Bari Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Rieccoci insieme, ultima parte del Biancherosso TV Sport speciale ritiro Torniamo da Barbara Cirillo Barbara, allora com'è stato questo viaggio Bari-Cascia? Raccontaci un po' l'approccio, che località è Cascia? Fa freddo, fa caldo? Raccontaci un po' di te Devo dire che abbiamo trovato tempo nuvoloso Il viaggio è andato molto molto bene C'è anche un'aria fresca Che dopo il caldo subito a Bari Devo dire che non fa affatto male Domani avremo modo poi di girare anche il paesino Però oggi ci siamo concentrati più sul campo Perché insomma è il tempo di arrivare Di vedere i luoghi di lavoro E poi ci siamo precipitati sul campo Per vedere l'allenamento pomeridiano di Mister Oteri E possiamo dire Enzo che nel giorno dell'inaugurazione Del Festival del Cinema di Venezia Mister Oteri batte il suo sesto ciacch Ed è già tempo di bilanci I numeri di questi sei giorni sono stati pubblicati anche sulle pagine social Del Bari Dieci sedute di allenamento 163 chilometri percorsi In media più di 6 chilometri per ogni giocatore Oggi tra le varie partitelle Le varie parti atletiche Devo dire che ci ha incuriosito molto Una partita, una sorta di partita di rugby Perché per intensificare i passaggi Per velocizzare i passaggi Mister Oteri ha deciso di far giocare i suoi Con le mani e con la testa Quindi per una prima parte Di non toccare il pallone con i piedi Devo dire che ha avuto i suoi effetti Poi sulla partitella successiva E il ritmo era davvero molto calzante Quindi buona impressione per Mister Oteri Ottima impressione I ragazzi sono stanchi Lo state sentendo dalle loro parole Però insomma mancano ancora sei giorni E tutto può succedere sia in campo che fuori Un'altra nota È tornato in gruppo Dursi Che si era allenato in maniera separata Invece continua a correre da solo Ma corre, questa è la buona notizia Simone Simeri che sta assolutamente recuperando In maniera flash dall'infortunio Poi subito nell'ultima partita di playoff Mi ripeti, 63 chilometri in quanti giorni? In sei giorni, 63 chilometri in dieci sedute di allenamento Il che vuol dire che in media ogni giocatore ha corso più di sei chilometri Sono tanti? Sono una bella cifretta Ah sì? Sì, sì, non sono male Non sono male In alcuni capo, poi dipende come li fai Tieni presente che noi in passato facevamo anche le ripetute sul chilometro Ne facevamo 12 Mamma mia Però secondo me non servivano moltissimo Una corsa, boh, sì, potevi mettere un po' di resistenza Puoi fare 500, puoi fare la metà dei chilometri Ma con molta più intensità Ed ha un altro peso, un altro valore C'è stato chiaro Allora, lì c'è Neglia Che ci è rimasto nel cuore Non so se resta o non resta È probabile che vada via Però quando penso a Neglia mi viene subito in mente Per associazione di idee Floriano, no? Perché sono stati due degli esterni più brillanti e vivaci del Bari nel primo campionato Floriano che oggi ha parlato in conferenza stampa a Palermo E in qualche modo ha sfidato i biancorossi Vediamo Diciamo che magari i primi sei mesi a Bari non sono stati positivi Però credo che bisogna sempre cercare di allenarsi a mille E il calcio è bello perché ogni anno, ogni domenica puoi dimostrare il proprio valore Ma secondo me quando magari si parte Io parlo di Bari l'anno scorso Si partiva insomma come la squadra che doveva stramazzare il campionato E magari partendo male si creano delle difficoltà E si creano magari delle difficoltà che non riesci a superare subito Quindi magari quello è stato l'anno scorso un errore che poi alla fine ti sei portato avanti tutto l'anno Quindi bisogna cercare di partire forte Ma credo che ogni squadra vuole partire forte Vabbè ho fatto un anno e mezzo a Bari Quindi sicuramente è una partita che magari si sente un po' di più Ma credo che in generale è una piazza importante Quindi è bello giocare magari contro piazze importanti Quest'anno ce ne saranno tante partite da cerchiare E dare appunto il massimo Quindi vediamo un po' adesso Vediamo come sarà sto calendario Il calendario è un calendario che slitta Bisognava o meglio era programmato per il 10 settembre Il 10 settembre avrebbero dovuto fare il calendario E invece i ricorsi in appello di Picerno e Bitonto Rispetto alla cancellazione della loro partecipazione in C Per la questione del presunto illecito sportivo Ha spinto la Lega a rimandare a data da definire La compilazione dei calendari Quindi da una parte abbiamo una notizia che ci avvicina al campo di calcio Cioè il 23 settembre la Coppa Italia E domani conosceremo la prima avversale del Bari Se giochiamo in casa o in trasferta Poi in casa in questo momento in trasferta A meno che non cambi qualcosa in questi giorni Per il campionato Io credo che il 27 comunque parte il campionato Anche perché insomma è un campionato che parte già abbastanza tardi Il 27 settembre è una data già abbastanza in là Diciamo in là Però per il calendario non fa più fede il 10 settembre Ma capiremo nei prossimi giorni Quando verrà stabilita la prossima data Barbara il Presidente l'hai visto seppur da lontano? L'hai intravvisto o no? Sì sì l'abbiamo visto tra l'altro da lontano Ovviamente c'è sempre un protocollo anti-covid Lo ricordiamo da rispettare Distanza sia dal gruppo squadra che ovviamente da tutta la dirigenza Il Presidente è assistito all'allenamento pomeridiano in panchina Sarà qui fino a domenica e non escluso che nei prossimi giorni Possa anche parlare ai nostri microfoni Ebbè insomma dai ce l'aspettiamo dai aspettiamo il Presidente Il Presidente ma anche il Mister credo che farà un sunto spero che lo faccia Il tuo Auteri siamo arrivati Ho fatto la premessa che tu lo conosci bene Auteri Ma questo è il momento in cui devi dirci tutto quello che sai sull'età noterica Allora è un aneddoto talmente lontano nel tempo Allora con la provincia di Nascita ci ha accomunato Ci ha accomunato anche il Siracusa Calcio Perché io sono andato Baglia Azzurra, Pantano Cini Bianchi Baglia Azzurra, Pantano Cini Bianchi Come inno d'ingresso era proprio Azzurro di Celentano E abbiamo iniziato a giocare entrambi nel Siracusa Calcio Lui era un po' più avanti di me Infatti ha un paio di anni più di me Però abbiamo giocato assieme nella Beretti del Siracusa Eravamo una signora gran bella squadra E quindi abbiamo giocato anche assieme Poi le nostre state si sono divise Lui poi dopo Siracusa è andato a Varese Il Varese di Fascetti Esattamente E poi io sono andato in altri Sono approdato a Bari Quindi abbiamo fatto state Avete mai giocato contro? No, da grandi no Perché comunque quel Varese, il primo Varese di Fascetti Ha giocato contro il Bari di Catucci Sì, sicuramente Io non ci siamo mai scordati Perché quando abbiamo giocato nella squadra con Lui si fece male alle ginocchia Lui ha avuto problemi ai minischi E non ci siamo incrociati Che giocatore era dal punto di vista tecnico? Fortissimo Era forte sia tecnicamente E sia anche atleticamente Perché correva forte Longilinio, Mancino Ambidesto però Mancino era il suo piede preferito Domani gli facciamo vedere le figurine di Auteri Quando era calciatore Va bene Va bene Io lo ricordo perfettamente Sarà che gli anni Era veramente forte Me lo ricordo Era un giocatore importante Sì Quel Varese Del famoso caos organizzato Ricordi? Facetti faceva il caos organizzato Il caos organizzato Sì, è vero È vero Barbara Che altro hai da raccontarci? Sì Enzo Dicevi? Non dico che altro hai da raccontarci C'è qualche altra curiosità da ritiro? Ma i tifosi del Bari non ci sono Immagino Perché all'inizio Cristian ne ha intervistati alcuni Però poi Insomma È chiaro che con l'impossibilità di avvicinarsi alla squadra Credo che in molti siano scoraggiati Oppure c'è ancora qualche temerario? No, no Qualcuno c'è Non sono in tantissimi Anche perché le porte degli allenamenti sono aperte E quindi si possono vedere da vicino i giocatori al momento Sono pochi Però non escluso che nel weekend possano arrivare gruppi veri e propri di tifosi Ovviamente là bisognerà anche gestire quelli che sono gli ingressi all'interno del campo Perché ricordiamo che c'è un'emergenza ancora in corso e bisogna mantenere tutte le misure del caso Distanziamento, mascherine Anche noi nonostante siamo all'aperto Comunque stiamo seguendo gli allenamenti con le mascherine E ben distanti Per cui vi aggiorneremo nei prossimi giorni Magari qualcuno domani arriverà Saremo pronti per raccogliere le loro voci E per sentire il tifo qui da Cascia dei tifosi Ovviamente continueremo ad aggiornarvi sul ritiro E anche magari su Cascia Dateci il tempo di fare un giretto da queste parti E domani vi sapremo dire meglio Mi piacciono le storie dei tifosi Perché per me questa ricordiamo È vero che adesso per il terzo anno siamo alla tv anche del Bari Però storicamente questa è stata sempre la tv dei tifosi del Bari Quindi mi aspetto, come dire, storia curiosa Lo scorso anno ci ha raccontato due o tre cose veramente eccezionali Anche emotivamente parlando molto forti Salvatore, oggi intanto hanno fatto il calendario per la Serie A Non l'ho ancora visto Abbiamo la prima giornata di campionato Insomma è una trasmissione che si rivolge agli appassionati di calcio Quindi voglio dire in qualche modo È vero che non ci riguarda sto campionato Però per l'evento Inter Peraltro non si giocherà Così come la partita che sarebbe stato forse il big match della giornata Cioè Lazio-Atalanta Perché queste squadre hanno finito più tardi la stagione Quindi è in scena dopo E poi Fiorentina-Torino, Genoa-Crotone, Juventus-Sandoria, Milan-Bologna, Parma-Napoli, Sassuolo-Cagliari, Udinese-Spezia e Verona-Roma Per lo Spezia ricordiamo è il debutto in assoluto in Serie A Ed è incredibile come nonostante sia stato forse l'artefice della promozione in Serie A Angelozzi non ci sia più Perché ha chiuso il rapporto con lo Spezia Singolare Singolare, molto particolare Singolare questa cosa Non me la sarei aspettata Insomma godersi una prima volta di una piazza che approde in Serie A Essendo uno degli artefici Magari non lo chiamo Angelozzi Vediamo se interviene da Skype e ci spiega che cosa è accaduto alla Spezia Sono ore importanti Doronzo è rimasto È rimasto Piero? Dico, ti domando Non lo so, di solito Piero segue Angelozzi Esatto, mando incontro Insomma dubito che sia rimasto Però sono ore importanti anche per un altro ex biancorosso Ciccio Caputo Perché l'Italia dopo domani credo giocherà il 4 una partita di National League Dovremmo avere un pezzettino di conferenza stampa di Caputo Vediamo un po' se è una conferenza stampa o una foto Credo che sia una conferenza stampa Vediamo cosa ha detto Caputo La mia convocazione è anche l'esempio La mia è stata una carriera diversa Magari da loro che sono già comunque giovani Stanno alla prima convocazione nazionale Però bisogna comunque credere nei sogni Credere in quello che si fa Per me è un sogno che si è avverato Dopo tanti anni di sacrifici Essere qua Per me è importantissimo Ho sempre seguito la nazionale Perché fa parte di ognuno di noi Perché italiano è normale seguire la nazionale Io penso che questa nazionale è piena di qualità Quindi l'unica qualità che io posso portare è il mio entusiasmo C'è l'entusiasmo di un bambino Quindi metterò tutto il mio entusiasmo La mia voglia per dare una mano a tutta la squadra Umile come sempre Ciccio Caputo Che cosa vuoi aggiungere? Nulla che si sta stragodendo Questa strameritata convocazione È un premio al suo impegno Alla sua crescita costante negli anni Un bel segnale Come ha detto Per chi comincia anche dal basso Senza avere alle spalle Un grosso club dove cresci E sai già il peso che ti porti appresso In questo caso positivo Se viene da un settore giovenile Della Juventus O del Milan O di altre squadre importanti È chiaro che Tra virgolette la strada È un po' più facile da percorrere Invece sappiamo tutti Da dove arriva Ciccio Caputo E essere arrivato lì È una gran bella soddisfazione Barbara Ti salutiamo? Sei ancora lì? A Cascia? Sì? Sì, sono qui Perfetto Va a cenare adesso Vai a mangiare un po' di... Hai già cenato oppure ce n'è adesso? No, no, abbiamo già cenato Ah, quindi va bene Se no Pappardelle coi funghi ci stava Visto che avevo turno lì Esatto Pappardelle coi funghi Eh sì, in realtà è quello Si mangia anche molto bene Devo dire Va bene, va bene Barbara ci vediamo domani noi Va bene? Ok, domani sera Ciao Sì Enzo, domani ricordiamo L'appuntamento alle 8.40 Nel BN The Gang Poi nel nostro TG alle 14.15 Poi ovviamente ci ritroviamo domani sera Con le voci dei protagonisti E tante altre novità Qui da Cascia Perfetto A domani Ciao Grazie anche a Salvatore Guastella Grazie a te Enzo Hai inteso a lavorare sui campi di calcio? Sì Con il nostro free time Con Pino Giusto Sì Ci siamo insomma un po' allargati Nel senso che abbiamo accolto altre figure Tra le quali quella del mio caro amico nostro Che è un amico Pino Giusto E quindi vedremo di trasmettere un po' di entusiasmo Di qualche conoscenza che abbiamo ai ragazzini Grazie a Salvatore Guastella Grazie anche a voi A domani A domani sera Con il Bianco e il Rosso Tumi Sport E altri appuntamenti Ve la ricordate Barbara Ciao